Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Repubblica. La responsabilità è tutta del governo di centrodestra, mentre negli anni scorsi con i governi di centrosinistra l'Italia era stata al centro dell'Europa, portando la lira nell'Euro, entrando nel sistema Schengen, assumendosi delle responsabilità nei Balcani, dimostrando cioè di essere un paese che crede nell'Europa, con questo governo Berlusconi l'Italia sta allontanandosi dall'Europa. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Un uomo che garantiva bene l'immagine dell'Italia nel mondo ed è molto grave che il centrodestra lo abbia mandato via.